Buongiorno, questo video per illustrarvi una operazione di trading intraday short che ho appena concluso sul future Fuzzimib, sul nostro contratto derivato italiano, la giornata di oggi, pomeriggio, martedì 6 luglio. Operazione effettuata grazie all'indicatore Confluenza che qui vedete in basso, l'indicatore Confluenza è un indicatore proprietario che si basa sulla combinazione di tre altri famosi indicatori di analisi tecnica ed è rappresentato da pistogrammi verticali che possono assumere tre colorazioni diverse, verde se bisogna andare long, rosso se l'indicazione è ribassista, giallo invece vuol dire che il mercato è flat, è laterale per cui bisogna essere al di fuori di ogni posizione, quindi tre colori più o meno con il semaforo che stanno a indicare le tre possibili posizioni, long, short e flat. In particolare l'operazione che vi sto per descrivere è avvenuta esattamente alle ore 15.30 in occasione dell'apertura della borsa americana dove vi è stata questa candela rossa che ha fatto diventare rosso l'indicatore Confluenza e quindi sul livello 25.285 sono entrato in posizione short. L'indicatore mi è rimasto rosso nelle ore successive, la scansione temporale di questo grafico è 5 minuti, è sempre rimasto rosso quindi io sono sempre rimasto in posizione short, fortunatamente il mercato è sceso, è sceso in modo piuttosto costante e lineare fino alle ore 17.10 quando l'indicatore Confluenza è diventato giallo. e quindi mi dice di entrare in posizione flat e quindi di chiudere il precedente short, cosa che ho fatto e l'ho fatto sul livello che mi indicava lo stesso histogramma del Confluenza sul livello 25.120 e lì ho chiuso la mia operazione. quindi short da 25.285 a 25.120 un guadagno in questa operazione short entra dei 165 punti per un controvalore in euro lordi di 825 quindi 825 euro lordi in quasi neanche due ore di trading. poi effettivamente questa indicazione di chiusura è stata direi ottimale perché lì il mercato poi aveva fermato e ha arrestato la propria discesa non ha continuato ed è anche vero che non ha dato ulteriori indicazioni di rialzo perché non vi è stato nulla di particolarmente significativo il mercato da quel momento ha lateralizzato e quindi ho fatto bene poi mettendosi anche dopo ancora gialle gli histogrammi del Confluenza effettivamente il mercato è lateralizzato, perlomeno sta lateralizzando quindi non sta succedendo niente. diciamo che l'unico trend importante di giornata, visto che la mattinata poi anche lì è stata abbastanza laterale lo abbiamo preso grazie all'indicatore con fluenza 165 punti 825 euro io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro come al solito buon trading.